Ok, allora, riprendiamo dopo la pausa e entriamo un pochino più sul pratico, cercando di cominciare ad affrontare primi esempietti, diciamo così, che possono sembrare anche un pochino banali, ma sono solamente degli esercizi mentali che non si possono abituare a pensare a questo problem solving. E questi sono gli strumenti, voi immaginavate di vedere un super computer qui, che cosa mi serve per fare problem solving? In realtà no, carta e penna, non si vede nella figura, ma cervello, ecco quello in realtà è quello che serve di più. Quindi questo ci aiuta a che cosa? A fare in modo di non, seguiamo delle regole molto rigide, per aiutarci a fare in modo di non dare nulla per scontato, come dicevamo prima, cioè di non dare delle istruzioni che non siano poi eseguibili nel contesto di chi le deve eseguire, che è quel povero calcolatore che stiamo cercando di programmare. E quindi noi dobbiamo immaginarci che tutto il nostro mondo sia qua. Immaginiamo un po' che questo foglio di carta sia poi la memoria del calcolatore. Nella memoria del calcolatore ci deve stare sia le istruzioni, passo a passo, sia i dati su cui queste istruzioni lavorano. Deve essere tutto esplicitato qui. Quindi non è possibile far riferimento a informazioni che non siano scritte sul nostro foglio di carta. Questo ci serve ad essere sicuri di avere tutti i dati, ci serve ad essere sicuri che quando voglio compiere un'operazione, tutti i dati di cui ho bisogno siano disponibili. Adesso noi possiamo farlo con un foglio di carta e una penna, oppure possiamo farlo con un file di testo in cui scriviamo, un documento Word. Questo in un certo senso dipende poi dagli strumenti, dal contesto in cui lavoriamo. Però è importante questa regola, cioè esplicitare ogni singola operazione senza dare mai nulla per scontato, esplicitare ogni singolo dato senza dare mai nulla per scontato. Va bene, questo qua lo saltiamo, lo facciamo magari a parte. Ecco, per far questo sviluppiamo il concetto di algoritmo. Cioè, che cosa ci scrivo su questo foglio? Ci scrivo i passi risolutivi del mio problema. Questo concetto di passi risolutivi del problema prende il nome tecnicamente di algoritmo. Algoritmo è il nome che usiamo in gergo informatico per rappresentare i passi da eseguire per ottenere una soluzione. Qui c'è un esempio di un algoritmo che è scritto in un linguaggio di programmazione grafico, dove la CPU è il ragazzo o l'adulto che costruisce il Lego, e il linguaggio è basato su una certa simbologia grafica. Quindi non è un linguaggio testuale come era il Python, ma non importa. Comunque è sempre un algoritmo perché è fatto di passi, uno, due, tre, quattro, è fatto di una simbologia. Cosa vuol dire sta roba qua? Vuol dire che in ogni passo io ho degli elementi, degli input che servono in quel passo, invece nel passo successivo ne serviranno degli altri, ho delle azioni da compiere, che in questo caso sono appuntate da delle freccioline, e così via. Le operazioni sono principalmente di tipo sequenziale, quindi è un linguaggio vero e proprio. Se io guardo questa cosa per la prima volta, dico un attimo, devo orientarmi, cosa vuol dire questa freccia gialla qua rispetto a quella rossa? Cosa vogliono dire queste due frecce? Dopo un po' lo imparo. Ho un linguaggio visuale, visivo, cosa vuol dire il riquadro azzurro? Cosa vogliono dire questi numeri? Cosa vuol dire questo due per qua vicino? Sono cose per carità, ovvie, intuitive, però nel mondo del calcolatore non c'è nulla di ovvio e intuitivo. Ogni segno grafico su questo foglio ha un suo significato. E io devo conoscere questo linguaggio, questo segno grafico, per poter decodificare le istruzioni e poi eseguirle e montare il mio robottino. Viceversa, devo conoscere ancora meglio questo linguaggio grafico per poter costruire le mie istruzioni che indichino a qualcun altro come fare a costruire quella parte. Una cosa che non è molto visibile in questo esempio è invece il fatto che possono esistere delle sottooperazioni, ad esempio questa qua in giallo, per il passo 5 in realtà prima componi questo e poi componi quest'altro. Quindi vuol dire che le istruzioni non sono necessariamente tutte allo stesso livello, numerate dall'1 al 100, ma a un certo punto per eseguire il passo 27 fai riferimento a un'altra sequenza di istruzioni che hai scritto da qualche altra parte. Quindi hai decomposto il problema, visto che magari è troppo complicato spiegarlo qui, ti dico, ti spiego a parte come fare questo pezzo e poi ti dico che cosa farne. Questo è il concetto di funzione che useremo moltissimo nella programmazione, di costruire, decomporre il problema in problemi più piccoli e ciascun problema lo risolvo separatamente e poi metto insieme i pezzi. Quindi costruisco tante funzioni in cui risolve un pezzo del problema. Una cosa che non si vede in questo invece del tutto sono le ripetizioni, cioè il fatto che un determinato task, una determinata attività possa essere ripetuto più volte. Non in questo bottino, ma quando dobbiamo costruire delle parti che contengono dei pezzi uguali, allora anziché ripetere le istruzioni sul primo pezzo e sul secondo, dicono di questo e fanno due volte, ripetilo due volte. E poi il primo mettilo qua, il secondo mettilo là. Quindi in certo senso sono istruzioni che vengono ripetute più volte identiche o molto simili a se stesse, non necessariamente identiche, perché poi magari lo devi infilare in un posto diverso. Questo ci porta a, diciamo così, anche in situazioni un po' paradossali, nel senso in cui dobbiamo abituarci a parlare e a sia esprimerci che a interpretare ciò che viene detto o scritto con un principio assolutamente di logica formale, di logica ferrea. Cioè qui non posso, non è un disegno artistico questo, se io questo qui, anziché azzurro, lo facessi in un colore diverso o mi dimenticassi di questo qui perché tanto è bruttino, allora lo metto qua in basso, non sarebbe la stessa cosa, l'istruzione sarebbe sbagliata. C'è un formalismo che deve essere seguito. Quindi a volte anche quando scriviamo lo pseudocodice sembra che stiamo scrivendo in italiano, ma in realtà stiamo seguendo delle regole molto più rigide. Ad esempio qui c'è questa barzelletta che inizia così dicendo, la moglie dice caro per favore vai al supermercato e prendi una bottiglia di latte. Se hanno delle banane prendine sei. Allora, cosa vuol dire questa cosa qua? Vuol dire che interpretandola ad intuito questo signore deve andare al supermercato prendere una bottiglia di latte e sei banane. Ok? Se ci sono, se non ci sono non le prende ovviamente. In realtà se lo interpretiamo diciamo così alla lettera il marito è tornato a casa con sei bottiglie di latte. e zero banane. Allora, la moglie che evidentemente non è un'informatica dice ma perché hai preso sei bottiglie di latte? Perché c'erano le banane. Perché c'erano le banane perché tu hai detto che se ci sono le banane prendi sei sottinteso di latte. Ovvio. Cioè le banane servivano la presenza delle banane serviva solo a decidere se prendere una bottiglia o sei di latte. prendene una di latte se invece ce ne sono sei se invece ci sono le banane oppure se invece piove prendene sei di latte in certo senso. E vabbè e poi l'epilogo tristissimo è il fatto che lui continua a non capire perché sono arrabbiati con lui perché in realtà lui ha fatto esattamente ciò che gli è stato detto. Ecco la difficoltà è tutta qua in questa parola esattamente esattamente è il contrario di ovviamente in questo contesto. Se lui ha seguito alla lettera queste istruzioni questo poi è una questione di punti di vista ma ciò che è sbagliato erano le istruzioni perché erano ambigue erano scritte in un linguaggio che non era compatibile con il linguaggio comprensibile da chi il doveva eseguire. Chi lo doveva eseguire ha pensato in un certo modo questo if se hanno le banane era per lui una condizione per capire se prendere una o sei bottiglie e quindi ha eseguito queste istruzioni corrette. Allora col computer sarà esattamente così. Quando noi scriviamo un programma lui il programma fa la cosa sbagliata è inutile che ce la prendiamo col programma povero Tapino lui ha fatto esattamente ciò che gli abbiamo detto siamo noi che magari non l'abbiamo detto nel modo giusto davamo per scontato che se scrivo questo allora lui fa questo no ci sono delle frasi o delle paroline che voi dite che sono estremamente sono dei campanelli d'allarme ok quando voi cominciate a dire scrivete un programma e mi chiedete ma qui il computer cosa capisce siete fuori strada perché il computer non capisce mai niente non è il suo compito quello di capire il suo compito è quello di eseguire l'unico che capisce sei tu sono io siamo noi quindi non pensiamo mai che il computer interpreti capisca pensi sono verbi che non si applicano il computer esegue cosa esegue ciò che gli ho scritto io come lo interpreta ciò che gli ho scritto io secondo le regole in modo molto rigido è certo che è pesante interagire con persone di questo genere è certo che è pesante interagire con i calcolatori è qui che ci sarà la difficoltà allora tutto questo lo formalizziamo secondo questo concetto di algoritmo che è la descrizione passo a passo di come risolvere un problema seguendo delle regole di scrittura molto rigide e delle regole di interpretazione molto rigide qui non è una storiella te la racconto più o meno ci si vede molto la differenza tra chi ti dice ma sì vagamente si potrebbe far così rispetto invece a chi ti ha dato passo a passo le istruzioni per poterlo fare si parla di sequenza per cui l'ordine dell'operazione è importante in un algoritmo non posso dire fai queste cose no come anche per montare il robottino Lego e se non le metto nell'ordine giusto arrivo a un certo punto che ho una una struttura amorfa che non posso far altro che sbontare e buttare via tutto no e l'algoritmo non è il programma l'algoritmo sono i passi risolutivi che porteranno il programma il programma viene dopo viene dopo dopo che ho studiato l'algoritmo dopo che mi sono convinto che funziona e per studiare come ciò che funziona come dicevamo prima di intervallo mi serve poterlo esplicitare poterlo formalizzare poterlo visualizzare anche per poterlo leggere ragionarci farlo vedere a qualcun altro chiederci se se funziona o no e questo a questo chiaramente servono queste capacità cosiddetti problem solving che abbiamo già definito allora quest'algoritmo per essere utile sicuramente deve essere non ambiguo cioè non ci deve essere il rischio delle banane per cui uno scrive una cosa e l'altro ne capisce una diversa perché noi con le macchine sappiamo che questa ambiguità non c'è l'interpretazione giusta è una sola e che è quella che mi dà il linguaggio di programmazione poi se sbaglio sbaglio io a scrivere quando io sono nella fase di algoritmo in cui dall'altra parte non ho ancora una macchina ma solamente un foglio di carta in cui sto ragionando devo essere sicuro di non fregarmi con le mie stesse mani di non scrivere delle cose ambigue per cui quando le rileggo quando le guardo mi sembra che siano giuste e poi in realtà non lo sono quindi dobbiamo obbligarci a usare un linguaggio molto asciutto quasi da macchina con un certo senso un algoritmo poi deve essere eseguibile eseguibile vuol dire che deve essere in qualche modo riconducibile anche se non nella prima stesura ma poi man mano che vado avanti deve essere eseguibile con gli strumenti che ho a disposizione e con le capacità della macchina che ho a disposizione altrimenti non serve niente altrimenti dà delle istruzioni e a un certo punto il passo numero 3 teletrasportati di un chilometro più avanti e quello non è un algoritmo perché il passo numero 3 non lo sappiamo risolvere non lo sappiamo eseguire sarebbe bello che si potesse fare ma non si può e quindi devi trovare un'altra soluzione che non usi quel passaggio lì che non si può implementare non si può supportare può essere svolto teoricamente dalla macchina ma anche praticamente nel senso che poi io devo avere la capacità poi di spiegarlo alla macchina per cui a volte ci sono degli algoritmi che potrebbero essere eseguibili io potrei costruire un algoritmo se conoscessi meglio il linguaggio di programmazione conoscessi magari delle tecniche di programmazione più evolute mentre invece ne conosco poche e quindi certe operazioni proprio non le posso esprimere perché non ho ancora la conoscenza oppure semplicemente la tecnologia non c'è e poi l'altra cosa importante per un algoritmo è la terminazione cioè un algoritmo deve essere una sequenza di passi che garantisce che prima o poi il compito sia finito compiuto eseguito non mi serve niente un algoritmo che va avanti all'infinito perché a me a un certo punto mi serve la soluzione serve l'output e quindi se il mio algoritmo non genera l'output non serve nulla serve scaldare la CPU e basta quindi questo problema è tutt'altro che banale perché se un algoritmo puramente sequenziale passo 1, 2, 3, 4, 5 va bene ma se un algoritmo che contiene delle ripetizioni delle operazioni che mi hanno ripetito più volte chi è che mi garantisce che a un certo punto non mento in un loop e non riesco più a uscirne e quindi l'algoritmo alla fine non finisce mai un algoritmo che si chiami calcolo api greco non può esistere calcolo api greco ha un numero infinito di cifre quindi l'output non esiste il suo calcolo non può avvenire in un tempo finito non è un algoritmo fine calcolo a 10 quadrati di 2 non è un algoritmo calcolo api greco con 8 cifre decimali sì quindi devo anche darmi gli obiettivi che siano in certo senso problemi di dimensione finita e nel pensare alla soluzione devo assicurarmi di non entrare in dei cicli infiniti poi ci accorgeremo che si rischia di entrare in cicli infiniti anche per delle banalità delle piccole dimenticanze di programmazione che non hanno nulla a che vedere col fatto che ci sono i numeri trascendenti o irrazionali però chiaramente se un programma non termina non serve a niente perché gira 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 ma non ti dà risultato alcuni algoritmi sono semplici ci sono i passaggi le istruzioni le istruzioni aspetta che non ho capito la domanda di Mattia se lo lasciamo andare avanti all'infinito a stampare le cifre e poi lo terminiamo noi allora non è non è calcolo api greco è calcolo un certo numero di cifre di api greco ma andando avanti col tempo quindi calcola progressivamente le cifre di api greco e forniscele in output man mano che le calcoli allora questo è un altro discorso a questo punto lo puoi interrompere quando vuoi ma nel frattempo lui comunque ti ha già dato l'output fin dalla 3,14 poi come sempre purtroppo quando si parla si è imprecisi e quindi bisogna sempre riuscire bisogna sempre formalizzare tutto ma poi diventeremo incomprensibili dicevamo scusate molti algoritmi già li conosciamo già e non li abbiamo neanche chiamati algoritmi cioè calcolare l'area del cerchio pi greco e r quadro va bene a parte il pi greco che non lo conosciamo con esattezza ma è un algoritmo dammi il raggio applica questa formula ti do l'area del cerchio terreno di Pitagora idem queste sono formule sono formule e quindi sono algoritmi fatti di un passo solo anzi tre passi acquisisci i dati applica la formula stampa il risultato visualizza il risultato li eseguo finito lì se so calcolare la formula se quella formula è complicata allora dovrò magari quel passettino applica la formula dividerlo in più sottopassi va bene ma sono sempre diciamo così applicazioni abbastanza lineari risolvere un'equazione di secondo grado è già un pochino più difficile se non altro per il fatto che ci sono tre casi possibili quanto questo discriminante può essere maggiore o minore o uguale a zero e quindi a seconda dei casi devo eseguire istruzioni diverse perché è un bello dire la formula si la formula ti racconta solo metà della storia l'altra metà è che se delta è uguale a zero allora applico meno b su due a se delta è maggiore di zero allora applico quella formula lì che mi dà le due soluzioni se delta è minore di zero nel caso in cui sia tra i numeri reali non tra i numeri complessi dico che l'equazione non ha soluzioni quindi quella formula alla fine la applico solamente in un caso su tre allora il mio algoritmo dovrà innanzitutto analizzare io dovrò conoscere tutti i casi possibili non posso scrivere un programma dicendo questo programma risolve le equazioni di secondo grado e lui le risolve solamente nel caso in cui il delta sia maggiore di zero o barato se scrivo un programma che risolve le equazioni di secondo grado allora l'algoritmo dovrà prevedere tutti i casi possibili e affinché l'algoritmo li preveda io programmatore devo prima conoscerli quindi io devo essere bravissimo a prevedere tutti i casi che si potranno verificare in realtà non sono tre i casi c'è un quarto quello a uguale a zero quella in realtà non sia un'equazione di secondo grado perché a uguale a zero l'equazione è della forma bx più c uguale a zero diventa un'equazione di primo grado se io in input acquisisco a b e c i tre coefficienti dell'equazione chi ti dice che a è diverso da zero non lo sai devi verificarlo quindi è un caso a cui non avevamo pensato prima però la prima volta che l'utente lo usa mette zero il programma va in crash divisione per zero e noi non capiamo perché perché ci siamo dimenticati un caso quindi la fase di analisi serve proprio a questo a essere sicuri di aver catturato tutta la complessità del problema e poi avrò un algoritmo che a questo punto in funzione della casistica che ho determinato farà operazioni diverse l'algoritmo è uno solo però ogni volta che lo eseguo si sviluppa in un modo diverso perché alcuni dati di input sono diversi quindi non solo richiedono più passi ma questi passi vengono eseguiti non necessariamente in sequenza ma anche in alternativa o faccio una cosa o faccio l'altra a seconda del discriminante oppure il minimo comune divisore tra due numeri no il massimo comune divisore tra due numeri è ancora più complicato perché io non ho non conosco un procedimento fatto di un numero predefinito di passi per calcolare il massimo comune divisore tra due numeri cioè l'equazione di secondo grado può essere complicata ma alla fine vado dall'alto verso il basso vado in sequenza proviamo a a vederlo cioè l'equazione di secondo grado significa equazione di secondo grado quindi con il primo passo devo leggere i valori di A B e C poi a un certo punto dovrò distinguere i vari casi se A è uguale a 0 fai certe cose poi se A è diverso da 0 allora fai altre cose tra le quali poi distinguerò la sua volta altri casi se delta maggiore di 0 se delta uguale a 0 se delta minore di 0 ok delta cos'è ecco già qua la regola del foglietto di carta mi dice che se io sto usando una variabile devo in qualche modo utilizzarla devo in qualche modo definirla quindi innanzitutto dovrò dire che delta lo devo calcolare calcola delta uguale B alla seconda meno 4 per A per C scusate erano minuscoli 4 B A C e così via noi non pensiamo a chi esegue queste istruzioni noi lavoreremo sempre con le istruzioni che ci sono andate dal linguaggio Python poi ci penserà lui a tradurre le istruzioni macchine alcune di queste alcune istruzioni Python sono direttamente mappabili pochissime la maggior parte lui ci pensa a tradurle se noi pensiamo a tutti i livelli sarebbe come pensare quando voi fate una curva in macchina alle molle delle sospensioni che cosa stanno facendo in quel momento se vi mettete a pensare a quello andate fuori strada proprio in senso letterale e qui la stessa cosa con la programmazione pensiamo a livello si dice in gergo di macchine virtuali cioè un computer come se fosse capace a eseguire istruzioni a livello più alto poi come sia capace a livello hardware se lo fa nativamente o se lo fa attraverso traduzione non è un problema nostro non ce lo dobbiamo porre nel momento in cui stiamo programmando ok io sto per rispondere a un paio di commenti che ho visto ecco se è uguale a zero allora io qui già avete visto che ho fatto una scelta e poi all'interno di questa scelta ho altre scelte possibili quindi la esecuzione si ramifica e se delta è minore di zero allora cosa farò allora dovrò dire scrivi non ci sono soluzioni se delta è uguale a zero puoi calcolare che x è uguale meno b su 2a meno b fratto 2 per a e meno cosa ho fatto e poi scrivi x e così via allora io qui ho usato una notazione una possibile notazione che mi sono inventato sul momento che potrei chiamare di pseudocodice cioè non è sembra codice nel senso di codice di programmazione ma non è un vero linguaggio di programmazione è una via di mezzo tra l'italiano e la programmazione ok però è molto molto rigido questo ma è quello che mi serve dove ho scelto di usare delle parole che sono leggi se calcola e scrivi in modo coerente e definito cioè io non scrivo anche se qua ho scritto scrivi x e poi sotto di nuovo ho scritto scrivi se scrivesse in italiano mi dicono guarda c'è una ripetizione non mettere scrivi scrivi la riga sotto scrivi e l'altro visualizza no invece qua sto facendo esattamente il contrario un termine ha un significato e userò coerentemente sempre con lo stesso termine quindi do per scontato che chi legge questo algoritmo chi ragiona con me su questo algoritmo ci siamo messi d'accordo sul significato delle parole ok sul significato di cosa vuol dire leggi cosa vuol dire se cosa vuol dire uguale che questo simbolo qua lo indichiamo per diverso e così via ci siamo messi d'accordo che questo simbolo vuol dire elevato potenza in alcuni linguaggi l'elevato potenza è scritto così in altri linguaggi l'elevato potenza è scritto così con il doppio asterisco in altri linguaggi l'elevato potenza non c'è allora faccio b per b dipende dal dal linguaggio che avete usato al momento siamo ancora nella fase di pensiamo all'algoritmo e formalizziamolo sotto forma di pseudocodice ok quindi possiamo deciderlo noi non c'è nessuna regola poi quando tradurremo in codice allora dovremo sottostare alle regole del linguaggio di programmazione vero e proprio ma finora ce lo possiamo gestire un pochino noi l'importante è seguire la rigidità poi ho usato così ci abituiamo già al python l'indentazione cioè qui c'è un se e poi ciò che succede se questa condizione è vera l'ho messo l'ho scritto sotto rientrato rientrato a destra ok e quindi vuol dire che tutto questo viene eseguito se questa condizione è vera se invece se quest'altra condizione fosse vera fosse vera io dovrei calcolare x uguale meno b su a e poi scrivi x quindi con questo trucco dell'indentazione riesco a capire se non fosse indentato io avrei tutto così e non capirei dove comincia dove finisce questo se mentre invece avendo un indentazione un rientro che in gergo chiamiamo indentazione capisco che il contenuto di questo se è fatto da queste due istruzioni poi vado a vedere questo se se è vero o no se è vero faccio queste istruzioni che sono rientrate sotto questo se stesso ok allora un commento su questo codice e poi rispondo alle vostre domande poi andiamo avanti sull'MCD questo codice non torna mai indietro io vado avanti ci sono delle parti di codice che vengono eseguite oppure non eseguite a seconda del valore di a vengono eseguite o non eseguite a seconda del valore di delta che ho appena calcolato sopra ovviamente qua devo ancora far dire che x1 qua calcola x1 eccetera eccetera non è completo eccetera eccetera calcola x2 scrivili e dai il maiuscolo eccetera ma non torna mai indietro quindi alla fine ci saranno varie frammenti di codice che vengono eseguiti in momenti diversi a seconda a seconda che del valore specifico che viene dato ad ABC io non sto scrivendo un programma per risolvere una specifica equazione di secondo grado sto scrivendo un programma che ha la pretesa di risolverle tutte e quindi in funzione del valore dei coefficienti si deve adattare alle varie casistiche allora le vostre le vostre domande tastiera allora va benissimo qualunque tipo di tastiera ovviamente per programmare normalmente nei linguaggi di programmazione si usano le lettere normali dell'alfabeto in realtà in python puoi anche chiamare variabili con le lettere accentate ma poi a volte ci sono problemi di copia e incolla soprattutto se le puoi pubblicare o condividere l'unica cosa scomoda della lettera italiana sono le parentesi quadre e le parentesi graffe si usano molto in python sia le parentesi quadre sia le parentesi graffe allora ci sono sulla tastiera semplicemente le parentesi quadre le devi fare con l'alt gr e poi i tastini e invece le parentesi graffe le devi fare con shift e alt gr per 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 fare uscire l'altro carattere che useremo che si usa a volte è questo sono i vari apici quindi l'apice singolo l'apice doppio l'apice inverso in particolare l'apice inverso è difficile da fare sulla tastiera italiana ma sono fine poi in realtà in python non si usa particolarmente l'apice inverso e basta quindi essenzialmente non ci sono grossi problemi di di tastiera poi altri commenti calcola i delta i se dopo non dovrebbero anche loro avere una rientranza a destra no questo se della riga 11 viene fatto dopo il calcola quindi lo faccio faccio un'istruzione dopo faccio un'istruzione dopo il se non è subordinato al calcola il se avviene dopo che ho calcolato un certo valore ok quindi quando io questa è la convenzione che mi sono inventato calcola e scrivi lo scrivi della linea 7 lo faccio dopo che ho terminato il calcolo della linea 6 il se della linea che adesso è diventata 12 perché non è una volta in mezzo la faccio dopo che ho terminato il calcolo della linea 10 sul segno da usare per diverso ci sono alcuni linguaggi che usano questo altri linguaggi che usano questo ma in questo caso non non abbiamo ancora scelto un linguaggio quindi usiamo potremmo anche usare pensavo altri linguaggi cent'anni fa il Forstam usava così per dire diverso o alcuni potrebbero dire not uguale cioè i vari linguaggi hanno vari modi per esprimere le operazioni quindi in questo momento non ci formalizziamo siamo ancora a livello di pseudocodici di Python non sappiamo ancora nulla ok alla riga 6 dovrebbe essere meno c diviso b ok bravo meno c diviso b era un errore mio di programmazione in realtà questo a sua volta presuppone che b sia diverso da 0 maledizione quindi dovrei fare ancora un sotto caso particolare nel caso in cui non solo a sia uguale 0 ma anche b sia uguale 0 e quindi dovrei mettere altrimenti questa divisione qua mi va in palla come 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 ecco un altro problema ad esempio questo programma è errato qua per una questione di tu dici ma cosa ho scritto a meno b su 2a eh no ciò che ho scritto io qua è questo perché una sequenza di moltiplicazione e divisioni ma anche in matematica si leggi da sinistra verso destra quindi se io scrivo meno b fratto 2 moltiplicato a lui fa prima b diviso 2 e poi moltiplica il risultato per a che non è quello che voglio io avrei dovuto scrivere anzi devo scrivere meno b diviso parentesi 2a questo è un errore che possiamo fare anche facendo gli esercizi sbaglio la priorità degli operazioni e alla fine il risultato viene sbagliato in questo caso è un errore di calcolo dovuto a una distrazione se lo diamo nel trascrivere la formula la formula che abbiamo in mente che abbiamo tutti in mente è meno b su 2a è lo scritto a digetto e invece no devo scrivere secondo il formalismo corretto ok e così via anche qua poi scopriremo tanti problemi delta uguale a 0 non si può in realtà mai fare perché essendo un risultato di un calcolo magari non viene esattamente 0 per problemi di arrotondamento ma questa è tutta un'altra problematica che avremo quando parleremo di come il calcolatore rappresenta i numeri reali che di per sé hanno una precisione infinita ma il calcolatore può solo rappresentare una parte finita e quindi anche un esercizio semplice di questo genere in realtà nasconde tante insidie ma il punto per cui avevamo a uguale a 0 o a minore a 0 non mi sembra che sia il caso di separarli non ci vedo il valore aggiunto nel separarli però dicevamo siamo arrivati a parlare di questo perché questo è un algoritmo che procede dall'alto verso il basso cioè non torna mai indietro l'MCD invece no allora innanzitutto l'MCD vi ricordate che cos'è il massimo condivisore allora all'elementare o le medie cosa vi hanno insegnato per fare il calcolo dell'MCD il calcolo dell'MCD ti dicevano di allora leggi A e B poi scomponi ti dicevano scomponi A in fattori primi scomponi B in fattori primi e poi c'era quella frasetta strana che abbiamo imparato tutti in memoria prendi tutti i fattori di A e di B comuni non comuni ricordate stessa frase comuni presi con l'esponente più alto è giusto? questo minimo comuni di multiplo è vero è vero il massimo condivisore invece prendi fattori comuni che siano comuni ad entrambi presi questo metodo da scuola media non è per nulla facilmente implementabile scomponi in fattori primi il mio criceto sa cosa vuol dire scomponi in fattori primi? no è una di quelle operazioni che a sua volta dovrei scrivere ok scomponi in fattori primi allora vuol dire che da a parte devo dire che scomponi come si fa scompone scompore un certo numero x e allora ti devo dare le istruzioni comprensibili a livello di criceto di come si fa la scomposizione in fattori primi di un numero e che dovrà darmi un elenco di fattori ciascuno col suo esponente rischia di essere più complicato questo dell'altro ok poi anche il prendi tutti i fattori di a e di b che vuol dire prendi prendi cioè qua era facile calcola scrivi se qui non sappiamo neanche come esprimersi qui ci stiamo esprimendo con dei concetti ancora di più alto livello che da soli non sono definitivi ma che in qualche modo dovremo a loro volta ricondurre o risemplificare riespandere ok prendi tutti i fattori ok posso scriverlo così in prima battuta ma poi so che lo dovrò riscrivere o riscrivendo la frase oppure diciamo riscrivendola a parte per dire in pratica che cosa significa c'è una domanda mi chiedono di tornare a questo foglio qua dell'equazione in secondo grado spero non per copiare nel senso che per copiare se sono i video poi se lo volete vi condivido anche i file non perdete tempo a ricopiare quello che faccio io vi condivido tutto video file eccetera alla fine di un'elezione quindi usiamo il tempo per ragionare insieme non per valiammanuensi ok allora questo vuol dire che questo forse ci arrivo in fondo però probabilmente non è la strada più efficace io ho un'altra strada ricordiamoci che ho di fronte a me un criceto obbedientissimo velocissimo ma stupidissimo e per quanto gli parlo di scomponi in fattori primi prendi questo confronto con l'altro un pochino va va in va in crisi e allora l'altro modo potrebbe essere di dire ok anche qui leggi AIB un po' come quello che sta dicendo Michele legge AIB e poi dico prendi così considera tutti i numeri anche qui considera poi i numeri da 1 a e poi vediamo a ad a oppure b poi ci ragioniamo allora tutti i numeri diciamo lì n da A a B e poi prova allora verifica se no verifica se A è divisibile per per n e vado a capo semplicemente qua B è divisibile per n per n non è coso scritto n allora se A divisi per n e è divisibile per n allora è un è un multiplo comune è un divisore comune dal divisore comune è un numero che divide A e divide B senza resto allora è un divisore comune sarà il massimo comundivisore sì o no eh non lo so devo vedere diciamo così potremmo dire mettilo da parte poi io non lo farai così ma salvalo da qualche parte scrivilo da qualche parte e poi dopo estrai il max massimo il più grande tra i numeri messi da parte questo è un modo quindi i numeri A e B sono ad esempio 8 e 12 considero i numeri n da 1 a vediamo poi dove ci fermiamo 8 dividibile per 1 sì 12 dividibile per 1 sì allora 1 lo metto da parte 1 2 8 dividibile per 2 sì 12 dividibile per 2 sì 2 3 8 dividibile per 3 no allora non lo considero il 3 4 8 dividibile per 4 2 dividibile per 4 sì 5 no 6 no 7 no 8 no 9 no eccetera e qui mi fermo perché ho già superato l'8 quindi non ci può essere nulla di maggiore di 8 che sia divisibile per 8 e quindi 1, 2, 4 il massimo comundivisore è 4 perché è più grande tra quelli che ho messo da parte perché 8 sì 12 non è divisibile per 8 quindi in realtà in realtà abbiamo già anche scoperto quando ci fermiamo ci fermiamo al più piccolo tra i b e quindi e quindi vado avanti fino a quando ne trovo quando non troverò più nulla l'ultimo che ho trovato è è quello giusto questo questo in realtà mi permette volendo ragionarci di lavorare in modo anche più efficace qualcuno di voi dice ma se tu anziché partire da 1 e arrivare fino al minimo tra i b parti dal minimo e lavora al contrario lavora al rovescio così il primo che trovi è già quello giusto certo oppure un altro un altro trucco è perché mi devo salvare tutta questa lista 1 2 4 a me basta solo salvarmi l'ultimo che ho visto quindi quando vedo l'1 scrivo l'1 quando trovo 2 cancello l'1 e metto il 2 quando trovo il 4 cancello il 2 metto il 4 e poi non ne troverò più e quindi quello che ho messo è l'ultimo quindi non mi serve tenere una lista di numeri mi basta solamente trovare l'ultimo ok poi ovviamente come state discutendo nella chat bisogna essere sicuri se il significato di divisibile è noto al mio criceto fa parte del linguaggio di programmazione può darsi di sì può darsi di no nel caso in cui no non sia allora devo però sapere devo poter esprimere ad esempio se a diviso n da resto 0 quindi se il resto della divisione di a diviso n è uguale a 0 e allora mi devo chiedere il mio criceto è capace di calcolare il resto di una divisione tra due numeri interi e andiamo a vedere che in tutti i linguaggi di programmazione l'operatore esiste l'operatore che ti dà il resto della divisione ok in alcuni linguaggi si scrive percento in altri linguaggi si scrive mod e così via si può arrivare fino alla radice quadrata del minimo tra A e B no secondo me Michele perché il minimo condivisore potrebbe essere B potrebbe essere B perché se io avessi 8 e 16 il massimo condivisore è 8 e la radice quadrata di 16 sarebbe solo 4 quindi ti stai confondendo col calcolo dei numeri primi la CPU la comprende una determinata questo è il linguaggio quando impariamo il linguaggio impareremo quali sono i costrutti del linguaggio quali sono i verbi leggi considera quali sono le strutture di controllo se quali sono le funzioni minimo quali sono gli operatori resto eccetera le conosciamo nella diciamo imparando il linguaggio di programmazione ovviamente quando se io avessi un programma che ha bisogno di fare 100 volte questa operazione come mi dice Lorenzo io potrei definirlo calcolo MCD di due numeri A e B e quindi non devo più leggere quindi no togliamolo non devo più leggere A e B faccio una funzione la chiameremo una parte di programma che fa quello e la posso usare tante volte quanto voglio da questo punto in avanti se ho creato questo nei miei programmi potrò chiamare la MCD tra 7 e 12 e quindi dire x uguale questo e poi potrò dire che y uguale la MCD tra altre due cose tra x stesso e 33 è quello che volete voi quindi posso ovviamente espandere il linguaggio creando le mie funzioni che poi posso richiamare ovviamente questa funzione a loro volta dovrò definire usando operazioni elementari percento modulo ho scritto quando dicevo che il calcolo del resto nei vari linguaggi di programmazione si scrive in modi diversi quindi alcuni linguaggi scrivono modo per dire modulo altri linguaggi usano questo segno il segno di percentuale che calcola il resto l'hanno scelto perché somiglia un po' al simbolo di divisione questi pallini lo modificano niente punto si impara che si fa così per fare il resto poi ci sono vari casi particolari mi dite se A e B sono uguali a 0 l'MCD non ha senso questo era solamente un esempio per farci vedere un altro un altro livello di complessità in realtà ne abbiamo visti due degli algoritmi mentre il calcolo della radice quadrata scusate dell'equazione di secondo grado aveva dei blocchi eseguiti in alternativa qui abbiamo un blocco che è sempre lo stesso che però viene ripetuto più volte per valori diversi del valore n quindi abbiamo un ciclo un ciclo in cui queste istruzioni della riga 6 7 qui sbagliato scusate la riga 9 dovrebbe essere rientrata se questo allora mettilo da parte quindi già senza rientranza avrei sbagliato perché il programma avrebbe messo da parte tutti i numeri n se è divisibile non far niente poi dopo che hai fatto niente metti da parte n quindi avrei già sbagliato questo invece va rientrato per dire questo mettere da parte eseguo solamente se è vera quella condizione la e qui c'è anche un'altra e e contemporaneamente b è divisibile per n qui devono essere entrambi contemporaneamente visibili e va bene però queste due istruzioni la 6 il 6 di riga il 6 di riga 6 e il metodo da parte di riga 9 vengono ripetute tante volte per valori diversi da n quindi il numero di istruzioni che eseguo è più grande del numero di istruzioni che ho scritto se io scrivo un programma che ha non so 11 righe ma magari questo programma esegue 5000 istruzioni perché se io devo fare l'MCD non di 8 e 12 ma di 1320 e 12406 quelle stesse istruzioni verranno ripetute molte volte perché c'è questa iterazione in cui questo valore di n deve assumere prima volta la prima volta eseguo queste istruzioni con il valore di n uguale 1 poi la seconda volta con il valore di n uguale 2 poi n uguale 3 poi n uguale 4 e ogni volta prenderò quelle istruzioni le eseguirò uguali uguali come codice ma con dei valori diversi che diranno ovviamente risultati diversi e quindi questo se a volte dirà sì è vero a volte dirà no non è vero e mi danno un risultato finale diverso perché alla fine avrò messo da parte degli insiemi diversi quindi noi combiniamo la sequenza di operazioni una dopo l'altra calcolare il cerchio eccetera fatti le operazioni in un certo ordine con la scelta la ramificazione di quali istruzioni fare con la ripetizione di operazioni assumendo valori diversi da ogni ripetizione questi sono i tre costrutti base con cui possiamo costruire gli algoritmi sequenza alternanza ripetizione decisione scelta chiamatela come volete ripetizione ciclo di istruzioni quindi anziché considera prima lo scritto così perché parlavamo in italiano adesso ripeti scrivo più precisamente ripeti con n che varia tra i numeri tra uno e il minimo tra i b quindi è più esplicito che qui sto facendo sto ripetendo delle istruzioni più volte quello che noi diciamo parole beh è il massimo tra quelli che hanno questa proprietà ma in realtà lo devo esplicitare dicendo ok provali tutti uno dopo l'altro poi vedi quelle più grandi quindi in qualche modo mi riconduco a questo tutti i ragionamenti tutti gli algoritmi alla fine li dobbiamo riuscire a costruire a esprimere combinando queste tre forme sequenza alternanza e ripetizione noi ovviamente poi ci sono le varie operazioni di calcolo allora devo imparare come fare i numeri interi come gestire i numeri reali come gestire i testi quali operazioni posso fare moltiplicazione divisione eccetera ma questo se vogliamo è banale è come imparare una calcolatrice dove sono i tasti sono cose ovvie di sintassi le cose diciamo così di ragionamento sono più come combinare tra di loro qui abbiamo una scelta all'interno di un ciclo questa scelta poi questo metodo da parte è un'altra azione che dobbiamo vedere come realizzare se A e B fossero uguali restituisce uno di due a caso e quindi dovrebbe restituire esattamente A oppure B se sono uguali e sono il dilemice di di se stessi in questo caso funziona ok quindi questi sono già su questo esempio molto semplice abbiamo capito A che l'approccio da scuola non sempre funziona questo è un approccio un pochino più brutta forza là cercavamo di essere intelligenti facciamo i fattori primi eccetera qui invece brutta forza proviamoli tutti e vediamo più grande fine in realtà ci sono altri modi ad esempio il fatto molti algoritmi quando fanno un MCD fanno la differenza tra A e B e quindi dicono che l'MCD tra A e B è uguale all'MCD di A meno B A e quindi ogni volta lo ripetono tante volte prendendo numeri sempre più piccoli quindi sono tantissimi algoritmi possibili diversi che portano allo stesso risultato ok vabbè calcolare P y con centro tifo di sinale è un pochino più difficile e sì è vero che dice Jacopo che A e B dovrebbero essere positivi se non il problema non è definito sì è vero è molto incompleto questa è solamente una prima bozza succede spesso che noi ci concentriamo sulla parte più difficile di un algoritmo ma come cacchio faccio sta MCD e poi magari per distrazione o perché non ci diamo importanza ci dimentichiamo dei dettagli o delle cose più semplici nella natura umana mi concentro nella parte difficile e il resto lo do per scontato e la macchina non dà per scontato niente quindi giustamente se uno mette zero o un numero negativo la macchina sputerà fuori un risultato che non ha senso alcuno perché non non corrisponde all'MCD quando non è definito e quindi dobbiamo poi avere la disciplina di andare a riprendere le cose e dirci ma in questo caso se fosse zero se fossero uguali se fossero negativi se non fossero interi e metto tutti i controlli del caso quindi in qualche modo è analogo a quello che fate quando fate matematica però qui c'è un gradino in più perché nel fare matematica poi il calcolo lo fate voi e quindi il caso particolare sapete che esiste ma lo incontrate nel fare i calcoli qui invece dobbiamo predisporci preparare tutti i possibili calcoli che potranno avvenire e poi solo dopo farli cioè farli solo dopo qualcun altro li farà non sono più io a farli quindi io devo avere considerato tutti i casi possibili vabbè qui ci sono altre cose che via via sembrano più complicate in realtà calcolare più greco con cento di fisi decimali bisogna capire se il nostro calcolatore è in grado di gestire numeri con cento di fisi decimali perché la calcolatricina non ce la fa python ce la farà punto di domanda boh scopriremo di no e poi ci servirebbe una formula iterativa per riuscire a calcolarlo la formula non la sappiamo dobbiamo andare a telefonare a un matematico dire senti mi aiuti e questo ovviamente è molto più complesso ma la logica alla fine è sempre la stessa io ho un sistema che cerco di un problema che cerco di risolvere e affrontare prima di tutto devo saperlo io perché questi due non ve li faccio come esempi perché non ho la minima idea di come calcolare questa formula e non ho la minima idea di quale siano le traiettorie del razzo quindi se voglio sperare di fare l'informatico che implementa questi problemi prima devo capire come si risolverebbero a mano e poi posso pensare come implementarli correttamente qui ci sono altri esempi ad esempio questo è un altro algoritmo per fare la pasta dove il tempo è tardo quindi non entro in dettaglio ma qui si vede sembra ovvio però qui vedete che c'è un algoritmo puramente sequenziale dove però ho delle ripetizioni dei cicli cioè se a un certo punto nel punto 4 l'acqua non bolle ancora torna al punto 3 e ripeti aspetta ancora un po' poi ricontrolla poi aspetta a un certo punto puoi buttare la pasta poi aspetti e anche qua se è cruda torna indietro riassaggia di nuovo tra un po' assaggia se è cruda eccetera eccetera quindi anche qua ci sono dei cicli che in questo caso sono banali perché sono solamente per far passare del tempo e giustamente due di voi hanno già detto che o hanno sbirciato le slide oppure si sono accorti che manca un passaggio fondamentale che è quello di installare la pasta anche perché magari metà di voi io a casa mia siamo metà di noi metterebbe il sale direttamente qua al punto al punto 2 e l'altra metà invece la butterebbe dopo il punto 5 possiamo metterci a discutere se sia meglio o no dal punto di vista chimico non fa nessuna differenza e col fatto che questo è un dettaglio magari si sono dimenticati di scriverlo quindi a volte problemini errorini di questo genere possono darti poi il risultato sbagliato e quando hai finito tutto fai la pasta e la butti via perché diventa immangiabile qui c'è un altro esempio che mi ha tratto dal libro sul succo d'arancia ci sono anche un altro po' di esempi ecco quello che magari vi consiglio di provare a fare è un po' diciamo così è poi svolto durante nelle slide successive però magari ragioniamoci solo a livello di di analisi e poi magari provate a farvelo senza senza guardare troppo le slide potrebbe essere questo cioè dobbiamo comprare un'altra un'automobile nuova e noi abbiamo una certa serie di informazioni tra cui il consumo di benzina mi dice che una consuma più benzina dell'altra ma è anche più costosa noi conosciamo il prezzo di un'auto l'efficienza di quell'auto in chilometri al litro sia dell'una che dell'altra sappiamo che vorremmo tenere l'auto per dieci anni qual è l'auto più conveniente ok quanti chilometri di consumo all'anno è vero che manca come dato è il dato mancante sì ci manca quindi in realtà come dice Andrea questo problema non si può risolvere perché manca un dato questo è già una prima chiaramente un errore nella slide ma è il primo passo per dire è inutile che mi metta a scrivere codice è inutile che mi metta a scrivere codice perché questo problema non è ben posto devo prima acquisire un dato in più che mi serve non è il caso di fare un grafico lui mi chiede un sì o no A o B quale auto è più conveniente se ti chiedo una cosa non mi rispondi bene un'altra ok se ti chiedo come ti chiami non recitarmi un sonetto qui c'è anche un problema di economia di economicità il programma deve risolvere una certa cosa risolva quella non ti faccio il grafico poi te lo vai a vedere da solo bravo vai a stendere anche tu quindi dobbiamo puoi più acere o no però quando tu hai un compito un problema da risolvere bisogna attenersi a quello che richiede il problema ma anche il prezzo dell'auto c'è perché se si tratta conoscete il prezzo di entrambe le auto il fatto che sia costante per entrambe le auto bisogna ragionare un attimo se con chilometraggio di mille chilometri all'anno o centomila chilometri all'anno la scelta tra l'auto A o l'auto B è indipendente oppure non è indipendente è vero che il chilometraggio è uguale per le due auto come dice Sebastiano ma il prezzo la convenienza di una rispetto all'altra temo che dipenda da quanti chilometri faccio per assurdo dipende o non dipende ragionamento l'ingegnere per assurdo se l'auto la tengo in garage sicuramente il prezzo della benzina non mi interessa quindi questo mi dice che il chilometro che percorro e quindi sceglierai sicuramente sulla base dell'auto che costa di meno però io so per esperienza che non è sempre l'auto che costa di meno come prezzo di acquisto quella che alla fine altrimenti non vedrebbero nessun diesel quindi vuol dire che quel fattore di chilometraggio annuale invece serve ho fatto il caso limite un chilometro uguale a zero sono arrivato non dico un assurdo ma una stranezza e allora mi accorgo che effettivamente ha senso senza mettermi lì a fare disequazioni molte volte ci interessa più avere l'intuizione l'intuizione spesso la prendiamo sui casi limite ok allora magari su questo qui provate provate un po' a cimentarvi provate un po' a ragionarci e a capire prima di tutto ovviamente dobbiamo farci un po' di calcolini matematici per convincerci che noi sulla base di quale criterio decidiamo e poi proviamo a scrivere un algoritmo anche ad esempio come pseudocodici come avevamo fatto prima usando le paroline calcola leggi scrivi eccetera che alla fine mi dica è più conveniente l'auto 1 oppure più conveniente l'auto 2 questo è poi l'obiettivo di questo di questo algoritmo io ho scritto l'algoritmo siamo andati ancora a livello molto molto intuitivo e quando ragionavamo sugli algoritmi abbiamo ragionato usando una rappresentazione così testuale con qualche regoletta così che ci siamo inventati insieme sul momento una regoletta complicata cercato di essere coerente e va bene perché ciascuno come dicevamo carta e penna si costruisce l'importante è essere precisi l'importante è essere coerenti e non dimenticare dettagli e essere sicuro di non scrivere delle operazioni che non siano fattibili c'è chi si trova bene con questo tipo di rappresentazione c'è chi invece si trova meglio con una rappresentazione basata più su una rappresentazione grafica con i diagrammi di flusso ok allora la rappresentazione con i diagrammi di flusso in cui diciamo che si usa una notazione grafica molti di voi magari la conoscono è rappresentata scusate più avanti qua usando dei blocchi che rappresentano l'input l'output la condizione e l'erecuzione di un'attività ve la racconto nel video che pubblico entro diciamo così entro giovedì per la giornata di giovedì vi racconto un po' come sono fatti i diagrammi di flusso e proviamo a vedere qualche algoritmo rappresentato con i diagrammi di flusso le due notazioni quelle dei diagrammi di flusso o flowchart e quelle dello pseudocodice alla fine sono equivalenti dipende un po' visto che sono entrambi uno strumento che ci serve a ragionare usiamo lo strumento che ci aiuta a ragionare meglio chi ha diciamo così un approccio più grafico chi ha un approccio invece più testuale oppure un mix dei due anzi molto spesso è un mix dei due impariamo a conoscere gli strumenti padroneggiarli poi tanto ci serviranno come strumenti preparatori all'esame non vi verrà vabbè dovete conoscerli entrambi all'esame viene richiesto di fare un programma e quindi quello che conta è il codice che scriverete questo è uno strumento nostro di aiuto a noi stessi nello strutturare un programma complesso poi non è scuso che nella domanda di teoria vi venga chiesto fai un flowchart di questa cosa qua è poi un recistetto di teoria io qua sono preoccupato diciamo così mi sto preoccupando del del metterci in condizione di poter ragionare per bene a un programma a un algoritmo dandoci degli strumenti per poterlo fare il 90% degli errori o delle stranezze o dei casi particolari che abbiamo trovato qui o che abbiamo trovato qui non li avremmo trovati se avessimo ragionamento puramente a parole li abbiamo trovati quando abbiamo cominciato a spacchettare il problema analizzarlo dettagliarlo e allora qui mi sono dimenticato questo qui mi sono dimenticato questo poi è una figata perché adesso stiamo programmando in 250 persone quindi io scrivo una cosa la sbaglio ci sono subito tre che mi dicono guarda che hai sbagliato lì forse così sempre sarebbe bellissimo invece purtroppo no a volte uno da solo non si accorge dell'errore che ha appena fatto anche se a tutti gli altri è evidente infatti molti programmatori lavorano a coppie proprio per questo motivo e ovviamente quindi le istruzioni le variabili come state dicendo è fondamentale rappresentarle quindi quello che vi suggerisco di fare per questa settimana è provare a fare risolvere per conto vostro questi due algoritmi che sono citati qua cioè quello dell'auto che trovate qua alla slide non quello sull'arancia quello dell'auto che trovate alla slide 37 e quello del conto corrente che trovate alla slide 42 che sono anche esolti sul libro e sulle e sulle slide però fatelo senza guardare senza sbirciare lo potete provare a farlo come pseudocodice nel video di giovedì riprendo questo argomento però presentando la formalizzazione di algoritmi sotto forma di diagramma di flusso e non sotto forma di pseudocodice così la settimana prossima quando partiremo col python avremo entrambi gli strumenti li potremo usare diciamo così a comodità nostra poi appunto per lunedì prossimo se avete dei dubbi su questi due esercizi che avete provato a fare li potete tranquillamente condividere anche su slack così ve li guardate io non ve li correggo non potrei mai correggere 200 esercizi fatti da 200 persone diverse ma tra di voi se volete condividere potete farlo tranquillamente liberamente io pubblicherò anche questi brutti appunti che ho preso sicuramente faccio uno zip e lo metto sul materiale del corso sul sito del light dove c'è 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 le altre le altre slide e l'altro materiale domande al volo tanto per chiudere di informatica c'è l'orale no non c'è l'orale l'orale c'è solo se abbiamo sospetto che abbiate copiato lo scritto e quindi normalmente la informatica si risolve con lo scritto e all'esame ci verrà chiesto di sviluppare un programma o due programmini e poi delle domande di teoria ci sono anche delle domande di teoria che avverteranno sulla parte di codifica dei numeri e architettura del calcolatore che dovremo fare e direi che il notepad più più che sto usando io sia assolutamente gratuito quanto dura l'esame questi dettagli sull'esame non posso entrarci adesso dipenderà se sarà in presenza se sarà a distanza ne parliamo più avanti adesso non sappiamo ancora non sappiamo ancora le regole con le quali si svolgeranno gli esami a gennaio noi sappiamo che vi chiederemo di programmare e vi chiederemo di rispondere le domande di teoria questo sicuro i decomodi abbiamo leggiti il sito ci sono tutte le istruzioni e suggerimenti paicharmedu è quello che suggeriamo per questo corso ok vi lascio quindi indicativamente giovedì dovrei riuscire sì sì è certo che l'esame è garantito anche online questo è sicuro stiamo pensando invece se sarà solo online se sarà misto alcuni online in alcune distanze assolutamente delle domande di teoria sugli argomenti di teoria noi non abbiamo ancora fatto calma calma sangue freddo non è domani l'esame gli argomenti di teoria sono la rappresentazione di numeri e l'architettura dei calcolatori poi avrete verso la fine del corso vi faremo vedere degli esempi di domande di esame non andate in ansia sull'esame adesso pensiamo a diciamo così a entrare nel vivo dell'argomento dicevo entro giovedì vi mando questo video sui diagrammi di flusso la settimana prossima invece cominciamo a vedere il passo successivo che è quello dell'implementazione di queste cose nel linguaggio Python quindi vedremo i primi rudimenti di Python ovviamente andremo per gradi quindi in qualche modo forse andremo un po' lenti per chi sa già le cose ma anche per chi percepisce che stiamo andando lenti facciamo attenzione consiglio sempre di fare comunque di fare comunque la di fare comunque gli esercizi che vengono proposti la parte sulle la prima parte faremo le sequenze la prossima settimana lavoreremo sulle sequenze in Python quindi l'uso di variabili calcolo lettura scrittura la settimana successiva sulle alternative sulle scelte la settimana successiva ancora sui cicli quindi ci metteremo tre settimane per riuscire ad arrivare a implementare questo tipo di 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 algoritmi poi da lì una volta che arriveremo a quel punto la cosa la consolidiamo un po' e poi cominciamo a complicare le cose facendo in modo di lavorare non solamente con numeri singoli ma con strutture dati più complesse ma su questo settimana dopo settimana cammineremo insieme allora per coloro che hanno già mangiato pranzo vi saluto per gli altri invece che non hanno mangiato nella pausa vi direi buon appetito ci vediamo via video giovedì ci sentiamo via Slack durante la settimana e in ogni caso ci ricontattiamo lunedì prossimo alle 16 come da orario arrivederci a tutti e in ogni caso